Ed ora andiamo a un altro sponsor, uno sponsor importante, è un gruppo, un gruppo che noi abbiamo nominato molte volte in questo contest, è il gruppo Made, il gruppo Made di cui presumibilmente dovremmo avere un bel contributo. E allora abbiamo visto il contributo del gruppo Made. Come sapete il gruppo Made è una delle più importanti aggregazioni di rivenditori di materiali e finiture per l'edilizia e l'architettura. Abbiamo in collegamento Claudio Troni, direttore marketing del gruppo, noi lo salutiamo, anche a lui chiediamo di darci delle indiscrezioni in materia di novità o di innovazione. E soprattutto io vorrei chiedere a Troni, ecco io sono un rivenditore, mi dica qualcosa per convincermi ad aggregarmi a Made, perché secondo lei dovrei farlo? Allora se avesse più tempo di un minuto comincerei con una battuta, ma visto che non ho tempo devo dire perché entrare in Made. Un rivenditore deve aggregarsi perché il mercato non premia più le piccole realtà, un mercato peraltro che negli ultimi anni l'abbiamo visto ridimensionarsi in modo molto sostanzioso e soprattutto prendere delle strade diverse. Sono cambiati i materiali, sono cambiati i soggetti con cui eravamo abituati a parlare. Siamo passati dallo svolgere un'attività orientata al grossista o al B2C, come dicono quelli bravi, a una gran parte del mercato che ormai sta andando verso il B2B, quindi verso il cliente privato che è un trend sempre in crescita. Dunque anche le aziende della distribuzione edile devono cambiare attraverso un miglioramento dei servizi e della competenza che non si improvvisa e che è arduo affrontare da soli. Quindi è meglio aggregarsi, meglio aggregarsi in Made perché Made da sempre è specializzato nei servizi specifici, e questa è la parolina chiave, della distribuzione edile. Quindi per aggirare la crescita dei multipoint, della grande distribuzione specializzata e della web offer, la soluzione che noi proponiamo è quella di migliorarsi attraverso i servizi. Va bene, mi ha convinto, mi dica dov'è il modulo da firmare. Intanto mi mandi l'anticipo, poi vediamo. Eccolo là, lo sapevo, lo sapevo. Va bene, facciamo una colletta, metto un terzo io, un terzo Donatella Cavallo, un terzo Francesca Malerba e ci aggreghiamo. Noi la salutiamo, la ringraziamo in bocca al lupo a tutto il gruppo Made. Grazie. Grazie, grazie davvero.